Ciao Francesca, ciao Anto, cosa stai facendo, un nuovo progetto? Sì, ho voglia di dare un nuovo colore alla mia parete, mi aiuti ad applicare il nastro carta al zuccolino così lo sporco? Guarda che ci sono delle soluzioni migliori dello scotch e del ricardo, vabbè come vuoi, io ti ho avvertito, allora guarda che cosa qua, questo è Easy Liner di Nespoli, è un rullo normalissimo, no no no, guarda bene, guarda, cos'è questo? Questa è una spazzolina che ti aiuterà a fare le righe senza aver bisogno del nastro carta, dai non ci credo, prima di tutto giri la spazzolina, poi intingi il tuo rullo come sempre, una volta che hai sulla vernice ruoti questa spazzolina che si va a chiudere e questo ti fa proprio da distanziatore e eviti di metterlo scosto. Senti ma se lo usassi per fare le righe dritte al mio eyeliner? Ecco qua, Francesca quando trova un attrezzo che va bene lo userebbe davvero comunque.